Perché è importante? Alperia è importante, è un primo passo per fare dell'Alto Agige un green country. Alperia sarà il terzo produttore di energia verde in Italia e le due società che si sono fuse hanno davanti un cammino di innovazione, di investimenti che sicuramente poi darà i suoi frutti per tutta la popolazione dell'Alto Agige.